siamo in diretta ore 19 e 00 puntualissimo come un orologio svizzero quella svizzera neutrale rispetto a noi forse più furbi di noi attenzione siamo collegati notizia dell'ultima ora lutto nel mondo della moda partirò con questa notizia ma le notizie dal paragone punto it di questa sera sono tantissime c'è di tutto veramente di tutto veramente curiose notizie terribili notizie curiose notizie strane c'è veramente di tutto attendo che state collegati la notifica ovviamente arriverà a certi non arriverà ad altri come al solito e per quello noi adesso mettiamo anticipatamente qualche messaggio per ricordare della diretta ore 19 collegati tutte le sere notizie bomba le notizie che molti troppi evitano ciao davide paschedda i ragazzi della redazione iene blu si stanno collegando corrado paladini e le ragazze sabrina candiani calo clemente l'inviato metodo della zona sud e ciao cosa buona nel pentolone mi dice calo clemente e abbiamo le davide paschedda zona nord invece di zona di torino e piemonte collegati amici eccoci qua iniziamo stiamo creando uno staff veramente forte siamo siamo un bel gruppo e ciao fabrizio ciao eric ciao cristina ciao silvana schillaci buonasera a tutti vi chiederei prima cosa visto che fate tutti parte di un progetto di libera informazione di condividere è fondamentale condividere pasquale casamonte da crottone casa moderna perdonatemi da crottone grande pasquale tu sei grande abbiamo da lugo di romagna e massimo abbiamo abbiamo tutti collegati guarda siete troppi vi state collegando in tanti mi raccomando fondamentale la condivisione partirò con questa notizia del che appena uscita comunicato stampa di una grossa azienda italiana di moda un'azienda molto molto famose grave lutto nel mondo della moda un valore improvviso l'ha portato via troppo presto questa è la notizia dal paragone punto ite il viso non lo conoscerete ma lui era un personaggio molto illustre molto importante nel mondo moda tanto che è stato assunto da questa azienda da poco e purtroppo a 46 anni è morto per un valore improvviso siamo collegati siete collegati eccolo qua alle mie spalle anzi di fronte a me lo vedete c'è questo personaggio questo personaggio davide renne è mancato il 10 novembre oggi a milano davide assunto quale direttore creativo dell'azienda moschino è venuto amici a mancare lo metto alle mie spalle lo metto vedete paragone è venuto a mancare attenzione perché la notizia è stata appena comunicata e vi leggo andiamo direttamente al comunicato stampa dell'azienda che chiaramente è stato fatto come vedete l'azienda moschino ha pubblicato alle mie spalle questo cuore con un comunicato stampa che adesso io vi leggerò e dal paragone punto it vediamo che è successo grave lutto nel mondo della moda un malore improvviso lo ha portato via troppo presto grave lutto nel mondo della moda soli 46 anni muore il direttore creativo di moschino il comunicato stampa di moschino è colmo di sofferenza e sgomento è con profondo dolore e grande tristezza moschino annuncia che davide renne è mancato il 10 novembre 2023 a milano davide assunto il ruolo di direttore creativo di moschino solo pochi giorni fa il primo novembre pensate 2023 non ci sono parole dice l'azienda per descrivere il dolore che stiamo vivendo in questo momento drammatico vi faccio vedere direttamente le parole defilandomi io attenzione guardiamo insieme in diretta le parole dell'azienda non le raccontiamo noi sono parole ufficiali dell'azienda moschino davide è arrivato e a noi solo pochi giorni fa quando un malore improvviso quando un malore improvviso ce l'ha portato via troppo presto ancora non riusciamo a credere a quello che è successo andiamo avanti nella notizia questa è la foto di davide amici preghiamo per la sua famiglia continua il comunicato stampa dell'azienda la moschino con davide noi stavamo lavorando ad un progetto ambiziosi in un clima di entusiasmo e ottimismo per il futuro anche se stato con noi solo per poco tempo davide ha saputo farsi subito amare e stimare oggi a noi resta la responsabilità di portare avanti ciò che la sua fantasia e creatività avevano solo immaginato le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia ai suoi amici afferma massimo ferretti presidente di afspia prima di moschino davide renne era e stato è designer di gucci quindi di gucci ed aveva in precedenza lavorato per alessandro dell'acqua questo è il tweet della il post perdonatemi anzi il tweet di moschino dove appunto c'è scritto di questo malore improvviso la traduzione letterale è questa davide arrivato solo pochi giorni fa quando un malore improvviso ce l'ha portato via troppo presto ancora non riusciamo a credere a quello che è successo amici per quello che noi del paragone chiediamo quotidianamente amici un una commissione di inchiesta seria non fuffa vogliamo la gente vuole capire di più perché tutti questi malori improvvisi non diamo la colpa nulla però è un malore improvviso l'ennesimo malore improvviso altre notizie attenzione instabilità del mrna vaccini la fuga di mail dell'ema fa scoppiare un terremoto ecco cos'è emerso attenzione tutto vero amici instabilità guardate è una fuga di dati c'è stata una fuga di dati mettiamo in primo piano questa notizia ha dell'incredibile amici instabilità nell'em dell'mrna vaccini guardate non è è tutto vero di email dell'ema fa scoppiare un terremoto ecco cosa è successo guardate questo lema si parla dei vaccini sono trappellati una serie di documenti dell'ema che mostrano come alcuni dei primi lotti commerciali del vaccino covid 19 di pfizer biontech aveva dei livelli di mrna intatto inferiori al previsto sollevando dubbi più ampi su come valutare questa nuova piattaforma vaccinale e sull'instabilità dell'mrna in questi vaccini a riguardo serena tinari ha pubblicato un approfondimento articolo su british medical journal non lo diciamo noi sono parole amici del british medical journal per evitare che i fact checker vogliano approfondire la notizia oppure dire state dicendo cose inesatte mi limito a dare questa informazione vi c'è link vi metteremo il link potete leggere tutto su british medical journal è stata condotta un'analisi sul vaccino covid pfizer a dicembre l'agenzia europea per i medicinali lema è stata vittima di un attacco informatico più di 40 megabit di informazioni riservate riservate nascoste o meglio e che hanno tenuto nel cassetto sono sono scappate sono scappate dalla casa di ema attenzione incluso quelli del bmj e accademici in tutto il mondo sono state inviate copie della fuga di notizie una cosa clamorosa esaminando i documenti che mostrano le autorità di regolamentazione avevano grandi preoccupazioni per la quantità inaspettata di basse di mrna amici una notizia che ha dell'incredibile che fa che fa per lui per un'ennesima volta ci fa dire che avevamo attenzione ragione dal primo giorno e che verrà che siamo solo all'inizio di quello che succederà a tutti gli attori principali di quello che sapete benissimo è stato un pandemonio generale attenzione perché ci sono altre notizie clamorose questa questa veramente guardate questa veramente clamorosa un'altra notizia clamorosa che vi faccio vedere perché qua stanno fallendo le banche amici stanno crolla un'altra banca e attenzione sui tg nazionali se ne guardano bene di parlarne tutto vero alle mie spalle la notizia crolla doveva essere putin a crollare le banche russe ma purtroppo non è così o per fortuna certi certi dicono per me purtroppo attenzione siamo qua crolla un'altra banca nel silenzio generale amici nel silenzio generale sposto un po lo schermo così riuscite a vedere meglio la notizia del giornale delle del nostro paragone punto it crolla un'altra banca nel silenzio generale stanno zitti nessuno dice nulla è la quinta che fallisce nel 2023 si rischia l'effetto domino siamo già arrivati a cinque cinque banche statunitensi fallite sono in questo 2023 che volge al termine un termine molto triste per gli stati uniti in questi casi non possiamo che menzionare il rischio contagio e la recessione globale ovvero lo scenario peggiore l'effetto domine reazione a catena parliamo della citizen bank che è fallita una banca regionale dell'aiua attenzione e si parla di una storia terminata lo scorso 3 novembre quindi una notizia di pochi giorni fa è tutto vero allorché la lawal division of banking l'ha chiusa per instabilità finanziaria amici una notizia incredibile che ovviamente non vedete ovviamente che non dovrebbe essere così ma non vedete sui tg nazionali questa cosa mi fa pensare molto perché è per caso fallito tutto il piano dell'embargo e se è andato e tornato indietro con un effetto boomerang nei confronti dell'europa e degli stati uniti attenzione perché anche in europa potremmo subire questa cosa un'altra notizia pesantissima non è finita avete visto le ambientalisti gli ambientalisti bloccano la strada signore questa è follia totale gli ambientalisti bloccano la strada guardiamo questa notizia e questa persona anziana scende dall'auto e ne uccide due c'è il video shock che non posso farvi vedere mi limito a farvi vedere la foto di questo personaggio che ha visto gli ambientalisti che bloccavano la strada è sceso per strada e ha sparato guardatelo un pazzo furioso veramente un pazzo furioso la pazzia sta dilagando questi ambientalisti pagati non si sa da chi stanno portando la gente all'esasperazione perdonatemi mi stavano chiamando mentre sono in diretta il traprendente direttore del paragone e che non posso mettere in diretta andiamo a vedere un'altra notizia clamorosa un'altra notizia che ha del clamoroso attentato a vox la ripetiamo l'abbiamo detto ieri lo ripetiamo oggi ultima ora grave attentato in pieno centro a madrid sparano in faccia il fondatore di vox che sembra che stia bene è andato bene però è stato attentato è stato attentato gli hanno sparato in faccia vi ricordo che vox è il partito di estrema destra estrema destra e spagnola attenzione cambiamo altre notizie c'è una peggio dell'altra signori una peggio dell'altra c'è notizie clamorose avete visto l'avrete visto parliamo di tecnologia parliamo di di futuro il futuro che ci attende guardate che è successo questo robot questo robot ve lo faccio vedere questo robot non ha fatto altro che scambiare il suo lavoratore il lavoratore l'essere umano che lavora attaccato all'uomo l'ha identificato non come uomo ma come scatola amici e ha schiacciato ha schiacciato l'operaio questo fa capire che non esiste una vera intelligenza artificiale tanto che in questi giorni ho interpretato un ingegnere dell'IT e dal regno unito e dell'irlanda sono riuscito a convincere faremo una diretta telefonica con degli ingegneri che a breve ci spiegheranno ci spiegheranno che cos'è in realtà questa fake news sull'intelligenza artificiale quindi attenzione perché vi metterò l'informazione prima faremo questa questa daremo questa notizia che ha dell'incredibile dell'incredibile quindi sono riuscito a raggiungere diciamo che tra i faiutori tra i faiutori che da anni lavorano sull'intelligenza dette artificiali mi trattava sui computer e che parlo dei migliori professionisti al mondo che ci diranno tutto sull'intelligenza artificiale le fake news che stanno dicendo per loro sono vere fake news attenzione dopo questa notizia guardiamo altre notizie dal paragone.it oggi veramente una giornata ricca di notizie che hanno dell'incredibile i sedicenne ne abbiamo già parlato ne ho parlato nella diretta precedente ma chi non l'avesse visto la notizia un sedicenne amici vi faccio vedere la sua bicicletta è stato trovato parliamo di lecce parliamo di lecce è stata trovata la sua bicicletta e lui il suo corpo di fianco alla bicicletta solo 16 anni sarebbe stato il suo compleanno guardate è stata trovata la bicicletta riversa a terra il suo corpo di fianco muore per malore improvviso a lecce purtroppo era il suo compleanno preghiamo per la famiglia notizia veramente triste altre notizie clamorose è di rama avete visto avete visto ieri in televisione chi è di rama è il primo ministro e rumeno e perdonatemi albanese ho sbagliato ho sbagliato stato e albanese sono dei pazzi ha detto chiaramente è di rama distrugge il pd e dell'igilene che vogliono cacciarlo sinistra a pezzi in sostanza lui ieri sera a dritto e rovescio ha parlato molto chiaramente se riesco a farvi vedere il video ve lo faccio vedere perché ha detto una cosa molto molto interessante non so se ci sia il video e di dritto e rovescio non l'hanno messo niente non c'è il video però ha detto una cosa molto molto interessante si è reso disponibile ad aiutare l'italia ad aiutare il governo di giorgia meloni non per soldi non per entrare in europa come hanno raccontato alcuni esponenti di centro sinistra ma semplicemente amici perché crede che sia giusto aiutare l'italia perché gli italiani e le forze italiane i pompieri italiani gli stessi volontari negli anni hanno aiutato il popolo albanese e lui primo detto rumeno perdonatemi saluta anche gli amici romeni tanti amici soprattutto in transilvania e è di rama è stato molto chiaro ha detto noi vogliamo aiutare l'italia perché l'italia ha sempre aiutato noi e non ha mai chiesto niente a noi e quindi noi l'aiuteremo senza chiedere niente in cambio un applauso a edi rama e alla faccia del pd che un accordo così non sarebbe mai riuscito a prendere quindi questo è una vittoria per il governo di centrodestra tra le mille sconfitte però che vorrei ricordare io giorgia meloni glielo ricordo tutte le dirette attendo ancora la promessa sulle accise attendo ancora la promessa sugli sbarchi attendo ancora la promessa sul calo delle tasse attendo ancora la promessa sull'innalzamento delle pensioni ci sono mille promesse che ha fatto in campagna elettorale alle quali non ancora dato risposte o peggio ha fatto il contrario attendo ancora una commissione di inchiesta seria e non quella fuffa che state facendo quindi torniamo le notizie amici questa è una notizia molto importante e ve lo condivisa volentieri e come vedete io sono critico per tutti dico le cose come stanno e un'altra notizia questa è incredibile perché avete presente gli integratori quelli che si bevono bene un ragazzino amici ha bevuto da un integratore beve l'integratore ustione alla gola e stomaco bambino ricoverato in ospedale scatta il ritiro del prodotto è un periodo dove amici c'è un ritiro di prodotti sia alimentari che prodotti per la cura del corpo dal mercato questa è una cosa gravissima perché un bambino di soli sei anni ricoverato d'urgenza al pronto soccorso con ustioni alla gola e allo stomaco un episodio terribile ha dato in scena in campagna e ha subito scatenato chiaramente un allarme nei confronti dell'integratore alimentare vi diciamo il nome l'alca waiter vivere all'alcalino è stato ritirato dopo l'attivazione del sistema di allerta rapido del ministero della salute anche qua potete leggere la notizia sul paragone.it amici a questo punto di notizie venodate vi ho dato una bella sventagliata di notizie di quelle che possono essere le notizie più interessanti da andare a leggere sul nostro paragone.it è importante andate andate a vedere le notizie troverete i link troverete tutto quello che vi serve per approfondire io vi auguro una buona serata a tutti spero che la diretta sia stata interessante ciao ciao condividete commentate è fondamentale condividete perché dal momento che gli algoritmi per uno strano motivo non inviano le notifiche e danno chiaramente una limitazione incredibile a tutte le pagine come la mia che vogliono fare un'informazione libera non controllata da un sistema ma libera perché non ho padroni fortunatamente io l'unico padrone che ho sono i miei figli e la mia dolce metà tutto il resto padroni non ne ho sono libero di dire quello che voglio quello che penso sono semplicemente uno di voi un cittadino italiano che si è rotto veramente le scatole di sottostare che cosa ha degli ordini dall'alto e molte volte ordini sbagliati ciao a tutti buona buona serata ci sentiamo più tardi se mai però vi voglio bene buona serata e buona cena tutti mi raccomando con cibo made in italy mangiato italiano che è sempre una cosa buona ciao a tutti